Aveva dichiarato senza mezzi termini che in caso di vittoria del no non avrebbe potuto chiedere alla regione di andare avanti con la procedura di fusione Perché ovviamente io non me la sento di dire alla regione di andare avanti e di proseguire Il sindaco di Montemaggiore Alberto Alesi su questo passaggio, contenuto anche nell'accordo firmato dai tre comuni, non aveva dubbi E così è stato una schiacciante preponderanza dei no a Montemaggiore rispetto alla vittoria del sì di Serongarina e Saltara Facevano dormire sonni tranquilli ai cittadini Facevano perché una lettera a firma dei tre sindaci inviati alla regione ha mandato consiglieri di opposizioni e comitato del no su tutte le furie A Montemaggiore stiamo vivendo una situazione paradossale in cui dopo il referendum del 13 novembre, quindi l'esito elettorale Che ha portato un secco no all'ipotesi di fusione, abbiamo da una parte l'amministrazione che ufficialmente non ha ancora preso posizione E tentenna sul da farsi Sta circolando una lettera che vi risulti dove c'è un accordo che va un po' incontro quello che aveva detto il sindaco Alesi Sì, questa lettera l'abbiamo vista sui social network, gira questa lettera, questa comunicazione fatta dai tre sindaci al presidente della regione Marche In cui si chiede di procedere nella valutazione di competenza della regione Ecco, se questo fatto per noi è grave, nel senso che a nostro giudizio soprattutto nel comune di Montemaggiore Era necessario che il sindaco prima di confrontarsi con gli altri sindaci e prendere decisioni in merito Quanto meno consultasse il consiglio comunale che è l'organo rappresentativo di tutti i cittadini Inoltre l'esito del referendum dà un esito opposto a quello che è contenuto in questa missiva inviata al presidente della regione Quindi appare una scelta affrettata e quantomeno discutibile, per non usare parole più pesanti Ecco, quindi ci siamo una affrettata discutibile che a nostro giudizio dovrebbe essere rivista, assolutamente rivista Voi siete stati in regione questa mattina, cosa siete andati a fare e con chi avete parlato? Beh, noi stiamo cercando di percorrere tutte le strade possibili Nel senso che ci saremo aspettati dal comune la convocazione del consiglio e la presa d'atto del voto E quindi l'interruzione del procedimento Vedendo che questo non avviene, siamo andati in regione cercando di sensibilizzare i consiglieri regionali Su questa problematica che si è creata nel comune di Montemaggiore Diciamo che l'incontro è stato positivo, nel senso che abbiamo incontrato tutti i capigruppo della regione Marche Nella conferenza e abbiamo potuto esprimere quelle che sono le nostre valutazioni e quelle che sono le nostre perplessità Oltre al fatto, ripeto, che si partiva da delle basi su cui noi facevamo affidamento Cioè le promesse che in caso anche di un solo no, questo processo sarebbe stato subito interrotto Quindi viene anche un po' minata la fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni in genere Perché oggi questa fiducia è sempre meno, ma se ci comportano così le istituzioni poi diminuirà e non aumenterà Quindi siamo andati a far presente questa situazione Grazie a tutti